di avere lo stesso cognome, poi grazie al mio amico Alessio siamo riusciti a fare anche quella... cioè loro hanno fatto quel fotomontaggio che secondo me è spettacolare, sembro veramente io però ecco era una cosa carina giusto per rendere omaggio a un regista grande come lui la cosa importante è la promozione, cioè il record di imbattibilità, certo fa piacere è chiaro che se non prendo gol sicuro a casa un punto lo portiamo, quindi questo vuol dire dare continuità, vuol dire crescere, vuol dire arrivare il prima possibile al nostro obiettivo però ecco la cosa più importante è vincere il campionato, è chiaro che a noi dispiace perché sinceramente giochi bene, giochi male, potevi vincere di più, potevi vincere di meno però quanto tempo è che siamo primi in classifica e se non basta essere primi in classifica per riempire lo stadio noi di più non possiamo fare, non è che posso capire che all'inizio eravamo partiti male, che eravamo dodicesimi, tredicesimi, allora c'era qualcuno che storceva il naso ed era forse anche una parte giusta così, visto la retrocessione dell'anno prima però siamo primi in classifica, cosa dobbiamo fare? A noi dispiace tantissimo perché comunque per come è fatto anche lo stadio, comunque per come è calorosa anche la gente quando è pieno è un'arma in più per noi, però non è che possiamo obbligare la gente a venire allo stadio bisogna ringraziare quei soliti 7-8 mila che tutti i sabati con la pioggia, con il vento, con il sole sono lì presenti e ringraziarli.